ciao credo buongiorno buonasera e sì questa è la mia voce e non avevo voglia di scrivere quindi userò direttamente la mia voce di frifoli esatto niente volevo dirvi che I'm sorry che non ho pubblicato un pifero però sono andata in vacanza ed è estate quasi ogni giorno sarò a spiaggia e sono a due minuti del video di FNAF voglio morire malissimo anche perché voglio fare i sottotitoli in italiano anche perché il video sarà in inglese ma mi dispiace per le poche persone italiane e quindi voglio sacrificarmi per voi perché voglio che sia bilingue voglio uccidermi poi seconda cosa bella era che potete please consigliarmi dei meme perché io ovviamente li so tutti ma non ho voglia di cercarmi lì e non sono indecisa anche di cosa fare anche se mi sono già preparata tutti i disegni per motivi sconosciuti quindi se per favore qualcuno conosce un meme abbastanza estetic si dice estetic comunque credo abbiate capito oppure cute qualcosa carino e poi terza cosa grazie perché tra poco arriviamo ai 200 iscritti e io sono felicia anche perché non salirò mai di iscritti se continuo a pubblicare niente quindi forse non ci arriverò mai 200 iscritti però spero e niente ditemi quanto mi fa schifo la mia voce bella e ciao wow arrivederci buona serata e buon pranzo esatto ciao 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 ciao